Ma perché ti interessava proprio questo muro? Sta facendo una specie di carrellata Secondo lui l'amore è una cosa che va a sparire e tra l'altro non si sa più i ricordi Allora lui vuole documentarla e ha un'altra vera di ricordi Allora, non te l'abbiamo molto? Aspetta un attimo che mi fa la Dai, 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 pronti 2 6 3 6 6 5 7 6 6 7 5 2 Bergamasco però viene italiano C'è qualcuno che parla italiano? Bergamasco 3 2 2 2 6 7 8 6 8 6 8 con il 2 Ssshh No, che chi deve fare un 6 Eh, non fa bene No, ma non fa bene E' fatene un fuoco e dopo tanto ritardi Ecco, fai un brindisi dopo Siete un po' emozionati perché sapete essere ripresi 8 con il 2 8 con il 2 C'è più naturale Quella è naturale Allora, 2 e 1 Cosa è naturale? 6 1 3 4 6 5 6 8 7 8 6 2 3 3 6 6 6 7 6 6 2 2 3 3 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 8 7 7 9 7 6 6 6 6 6 6 8 7 8 7 8 7 8 9 10 9 10 9 10 10 10 11 11 11 12 14 15 15 15 15 15 16 nel giro dopo c'è la registrazione 6 7 8 9 pari 3 3 5 10 pari al 12 a 12 la distinguerà 6 5 7 8 5 6 8 bravo l'aria non ha detto? ah Bruno sfida subito l'aria 9 6 6 9 9 9 con 2 9 con 2 e per 30 con 3 6 8 8 4 4 4 4 5 6 6 6 9 4 6 6 6 6 6 2 4 4 4 4 6 6 6 6 5 6 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 7 7 7 8 8 9 9 8 8 8 8 8 più pari 6 4 6 6 6 0 è giusta, è uno è sempre uno quello lì no, un momento, faccio a me 6 anche io 6 anche io 6 non conta a quanto si va? a 2 a 2 a 2 vuoti 9 6 7 7 cosa maciugate? 4 5 4 4 7 4 5 6 7 7 8 6 6 7 5 3 14 15 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 16 15 2, 2, no, io sono dei 25 il paro, il pari 3, no, uno è bella 4, 7, no, più o meno 2, 4, 7, 4 4, 4, 6, 7 se metto giù zero, se metto giù zero no, non è zero ma ha detto che è uno metti in giro la prima se metto in giro la prima puglio è sempre uno se metto il puglio così è sempre uno poi abbiamo chiesto che è più giovane anche del Vittorio 7, 7, 6 per abbandono non lo cantavate bene era bello dai avanti un po' allora vai avanti e allora il concorrente vicino ha dato le dimissioni perché è troppo scarso rispetto a al campione si è ripreso vuoi ancora un punto di venti ti ha avuto un po' ma io sono capace vai ha detto che è bello no 2 3 6 no ma che picca no non lo lasci su così no ma fatta aspetta un attimo 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 il giudice il giudice il giudice il giudice no 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 perché tanto ne vinci sei venduto no 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 che ce lo vado un po' zero che ce lo vado un po' no 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 che ce lo vado un po' 8 8 bello secco 5 5 3 3 3 3 3 italiani 3 3 3 3 3 3 non è valido 3 3 gioca a Bergamo 3 3 3 3 italiani 3 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 1 2 pari 2 pari 2 pari 2 pari pari 8 2 6 6 6 6 non è italiano non va bene 6 va a giocare a Bergamo non è che il campionato dice più 2 2 aiuto 6 3 2 2 2 pari pari è meno male è tutto l'amore questo è spaghetato 6 4 6 3 6 6 2 2 2 ahahahah adesso l'ultima 2 2 2 3 3 3 3 4 7 8 8 8 2 2 2 2 ecco arrivato Zeno Colocco Zeno Colocco Zeno Colocco Zeno Colocco Zeno Colocco Zeno Colocco Un saluto da Ceppino Saluto da Ceppino Saluto da Ceppino Campione dopo tanto vino dopo tanto vino 2 2 8 6 6 6 6 6 ma 10 6 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 no, no, Bruno, l'hai marcatto il ponte? ma no, no, Bruno, no, allora va a mochire due, due, bravo, ormanno, noccia, otto bravo, ormanno, otto, sette, sei, sette, nove, sette, otto, sette, sei, due, tre sei, 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 cento, nove, sei guarda ti faccio fare la premiera bene, Vittorio, sì, sì, via l'ho, è bene, avete già matto, orcodice, orcodice, trippo, asteniti da ogni compito, vaterponci trippo, devi evocare tutti ti amano non potevo fare il preso tu non mi cone Pevere di chi veil i juristico te il tuo cuore, devi coprente synchronizzazione guarda, 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 guarda guarda ragazzi, guarda guarda guarda, guarda, guarda ok litri Aspetta! Aspetta cosa? Merda! Merda! Mi hanno perso, vedi? Andiamo a te, iniziamo a... Iniziamo a cucchiare! No, c'ho il 3! No! Ma dai! Dai a giocare! Si gioca anche il che non punta! 4 10 Va bene! 10 Va bene 10 E via! Grazie, lascia! Un 10 Un 10 Un 9 Un 7 Un 8 Un 7 Un 7 Un 6 Un 6 Un 6 Un 6 Un 2 Un 2 Un 7 Un 7 Un 7 Un 7 Un 7 Va bene! Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 Arcolia 10 Bostone! 1 2 di baston 2 E io non dico a la casa. T'ha dato fiducia anche, né? Che amici? Che gente. C'è il quattro dici. C'è il quattro dici. E io? A so tenen malà, tenen malà, porcos. Jo tenen malà per mi a set, hai, hai! Tenen malà, tenen malà per mi a set, hai! 3 3 3 4 5 6 6 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 9 9 9 5 9 9 9 9 9 10 3 2 10 2 E non ce l'aveva niente Adams Lui non avendo il 7, non avendo il 7, capisci? Per se mi ha portato a me dopo, eh? Ma niente, perchè aveva qualche algera. No, aveva 2-7-2, pensato che... Ma niente, ma lui deve rarparre il 7 non avendo il 7. Nonostante questo, che culi che si... Ma io ho risalto il trino, eh? Perchè qui li fa anche il 7, eh? E io ho trompito col 3, non avevo problemi. Perchè mi ha sembrato il 3, allora? Mi sono riusciti al 4, eh? Prima. E' generoso quello, eh? Mi ricordo la daga, Bruno. Ah, perché è meglio. E' un po' fannoso, pensavo che tu... Vieni al 3, tu qui... Ti fai te l'ulcarte... No, ti fai te l'ulcarte... E a che cuore che ha te, il 7 bello? Il 7 bello, te, di sicuro ce l'ha. Sicurissimo. Aspetta, se fa bene, manu! Eh? E ne mangiai, mangia tante. Mi vuole un cuoretino? No, 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 no. Su. La prenderò, la prenderò. Ti col... Ti ricordi l'acqua che l'acqua ha avuto? Grazie a tutti.